Ehi ragazzi, che fate di bello? Un lavoro Ah ah ah, sì lo vedo, ma ascoltate, non siete stanchi di lavorare così tanto e di guadagnare così poco? Sì, dire avanti Sì, ma io ho trovato un metodo facile e veloce per guadagnare un sacco e diventare ricco in poco tempo Sì, certo Sì, è la verità, e voglio condividere questa scoperta con voi Il bello è che non servono capacità speciali o chissà cosa Dobbiamo solo impegnarci Guardate qui, boom Be Eita Money In pratica sono delle carte che funzionano come delle normalissime banconote Ma sfruttano la tecnologia CryptoBlock Business Affiliate Trading in modo decentralizzato In pratica ogni banconota ha un valore di 10 euro Ma dato che si tratta di una tecnologia top number one Fra qualche anno potrebbe, ma che dico, sicuramente varrà molto di più Ma davvero? Sì, e non ti ho detto la parte migliore Per entrare in questo business dobbiamo comprare uno stock da 100 Che in teoria fa 10, 100, 1000, 1000, 1000 euro Ma se porto altre due persone posso acquistare l'intero blocco a soli 399 euro Potrei risparmiare il 70% 60% Oh, mi ha fatto scoprire questo affare il signor Scamander Guardate, lo devo fare proprio conoscere È una persona geniale Ha iniziato come cameriere e adesso sta facendo la bella vita grazie a Be Eita Money Ha organizzato una presentazione fighissima dove ha fatto vedere le foto della sua villa di lusso Della sua macchina di lusso, del suo appartamento a Dubai E ha detto che con un po' di impegno potremmo diventare un giorno come lui Inoltre la sua azienda offre un sacco di servizi fighissimi Tipo il crypto mining trading Dei loro assets Dei giochi a premi esclusivi Con un sacco di corsi di formazione a costi bassissimi Solo per noi che ne facciamo parte Allora, che ne pensate ragazzi? Volete far parte della mia crew o volete rimanere poveri a vita? No, perché mi hanno insegnato che c'è bisogno di denaro per creare denaro Bisogna diversificare le entrate L'unico limite è il cielo Schema piramidale Un cosa? Uno schema piramidale Un sistema dove più porti persone, più hai benefici Più sei in alto nella piramide Più guadagni a discapito delle persone che stanno alla base Oh no, ma no, no, no Certo che non lo è Anzi, nella presentazione sono stati molto chiari L'azienda ti dà le basi per diventare imprenditore di test Come che guadagna l'azienda? Ehm... Come fa a non andare in perdita se di fatto non fa altro che regalare soldi? Non lo so, ma... Come può promettere un rischio nullo se il settore delle criptovalute è poco regolamentato e il loro valore è altamente instabile? Ma nel futuro? Immagino sia d'obbligo portare altre persone e acquistare il pacchetto da 100 Sì, ma... Le carte una volta acquistabili non sono più sostituibili, vero? Come fai se non riesci a venderle? Io? Ti hanno detto che ci devi credere? Ma come fai a... Perché mai la gente dovrebbe regalarti un magico sistema di guadagno facile senza un tornaconto personale? Beh, forse non sono tutti egoisti e spilorci come te, mio caro Da dove vengo io, da dove vengo io, si dice che chi mangia troppo si affoga E io voglio aiutare i miei amici, anche se non se lo meritano Schema piramidale Va bene, adesso mi hai stufato però, te lo rispiegherò per l'ultima volta Ti faccio vedere io chi è lo schema piramidale Stupido scemo che non sei altro, guarda Bene, questo è il signor Scamander Che mi dà la possibilità di comprare i B.A. Tamoney al prezzo di 1000€ Ma se io ad esempio porto due di voi Riceverò uno sconto sempre più grande E così anche voi, portando un paio di vostri amici Potrete usufruire dello sconto e così via Visto? Nessuno ci perde Tutti guadagniamo e poi, una volta passato un po' di tempo Possiamo acquistare sempre più soldi e investire in... Torna al lavoro